lo zodi 105 presenta teste di casting una nuova azienda cinese che produce cereali vuole espandersi sul mercato italiano i cereali inoltre sono molto utili per combattere disfunzioni erettili ed imputenza si cerca il testimone ideale da affiancare a poropollo una gallina gigante che in cina è una vera e propria celebrità poropollo tuttavia è arrogante ed irrascibile e la vittima per passare il provino dovrà sopportare le aggressioni fisiche e verbali del nostro gallinone chi parteciperà al prossimo casting buongiorno legializzato in rapine credo quanti ne ha 71 40 li avrei dati ma serenamente marco marco fai fare il robot aiutandoti con la bocca facendo i rumori mi provi questa che più che più faccio quanto è buono il cereale lo mangia anche il maiale quanto è buono il cereale lo mangia anche il maiale non c'è il verso del maiale verso maiale valbucente benissimo facciamo entrare poropollo stessa azione di prima adesso sta pensando come gli rispetto a questa persona dove glielo pianto gli spezzo una gamba non è una bandana è un foulard che persona precisa e figliola sto cercando subito l'appiglio per il litigio per liberare l'anima in teatro si urla forte carciofen grida carciofen proviamo questa cereali one way yone una gioia per il penè cereali one yon en una gioia per il penè bravo bella cosa c'è un grizzly addormentato il claim è cereale super più il pisello va più su ti ruba la scatola di cereali tu col forcone fai no birichino non si fa azione perché la saggezza del contadino robot velocità c'è realtà è super più il pisello va più Sum fai no si per un attimo Jupiter si Un zecchio mi fai qualcosa, più c***o, ma la vuoi sta parte? Dai, dai conto di un c***o, dai così. Polo Polo, per favore. Non esagerare però. Perché se no? Tanto si è creato un clima di tensione impressionante. C'è un neofasismo. Io ho capito che con il forcone finiva la scena, non dovevo continuare. Io non ho ancora firmato un c***o, va bene? E me ne vado! Lei può interessare fare trichecone in una serie che stiamo preparando? Mi fa un attimo il trichecone. Sono trichecone, sono trichecone. Sono trichecone, sono trichecone. Sono trichecone, bambini, bambini, ecco, così, così, così. È ora della colazione, seguite il trichecone. È ora della colazione, seguite il trichecone. E lo arresta la polizia. Grazie a tutti.